il livello si parla di bici di livello alto molto alto e quindi mi sono trovato devo dire non per essere usare retorica ma subito bene l'avevo già usata nelle mie passate stagioni quando ero juniores perché comunque io essendo vicino da di asolo la vita di rossano veneto quindi poco distante ho potuto apprezzare subito i vantaggi che ti dà è una bici molto leggera molto rigida e quindi soprattutto quando la strada va subito in salita si riesce a percepire quanto quanto può andar forte sebbene l'aspetto atletico le gambe contano sempre ecco questo sì la zero definirei che è una bici molto adatta agli scalatori sì perché essendo essendo molto leggera ti dà una gran sensazione di velocità anche fuori tornanti in salita quando la riprendi quando ti alzi sui pedali la senti molto la senti molto bene ecco quindi quindi questo sì uso sempre questo tipo di ruote l'ecorima e perché mi trovo bene quindi quando trovi bene con un materiale normalmente non ha senso cambiare o insomma le usiamo in gara le usate anche al nord nelle classi che abbiamo fatto e anche la bici il nord ha risposto veramente bene e lì è un po un buon test soprattutto per i materiali perché comunque facendo il fiandre la rubè e tutte le classiche sul pavè si riesce benissimo a testare tutti i materiali e la loro tenuta abbiamo provato un po i tubeless nel nord però normalmente usiamo i tubolari nelle corse di nelle corse normali su strada